una premessa per chi non conosce bene che cos'è il marketing diretto il marketing diretto è quel marketing orientato alla vendita che è misurabile e tendenzialmente che abbia una strategia reale nel senso che si può contrapporre a quello che è il marketing creativo quindi quello dei chips la patatina mica e via dicendo per risponderti alla tua domanda Roy io credo che ormai nel mondo digitale una dinamica di direct marketing non ce la togliamo più nel senso che comunque caratteristiche di misurabilità di scientificità della pubblicità o del marketing ormai sono intrinseche perché le piattaforme digitali ti danno i kpi quindi se 50 anni fa vuole fare una pubblicità in tv e vedere che efficace aveva avuto sulla vendita di quel prodotto o peggio ancora se facevi branding puro su le vendite del brand in generale ricondurre quella pubblicità a quello che è successo era completa era molto 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 difficile e anche molto costoso ed estremamente diciamo approssimativo mentre oggi tu puoi sponsorizzare un link su un audience piuttosto che su un altro contemporaneamente vedere chi risponde meglio e vedere a quale parte di quel link quindi di quella pagina si fermano le persone o escono cioè hai tutta una serie di strumenti in cui la la misurabilità e la scientificità della della pubblicità diventa quasi intrinseco ecco sì diciamo che adesso non sto trovando se lo trovate voi era tipo marketing marketing diretto e marketing di brand adesso non lo sto trovando non mi ricordo in che capitolo era sto cercando qui sul libro quel quella parte lì se lo sapete scrivetelo nei commenti così lo magari lo ritroviamo però di base è esattamente quello che ha detto fra ovvero in questo momento internet ha portato la maggior parte delle attività cioè tutto quello che viene fatto su internet comunque è un marketing diretto tra virgolette c'è un marketing misurabile perché anche i like su instagram sono misurabili allora vi consiglio pure di guardare questo video a proposito questo è il marketing di set godin perché ho fatto un video a proposito questo video qui questo è il marketing set godin perché lui parla di questa roba qui ce ne parla e diciamo unisco alla sua riflessione dura mezz'ora quindi ecco adesso ve lo potete andare a vedere ve lo lascio qui il link però di base qui c'è un certo punto che lui parla della differenza tra il marketing diretto e il marketing di brand e aggiungo pure le mie considerazioni su questa cosa qui adesso non mi ricordo a che minuto è cioè tutto il marketing online e marketing misurabile però chiaramente ci sono attività di marketing di brand che per cui non devi andare a guardare il ritorno e ci sono attività di marketing diretto ovvero per cui tu devi essere ossessionato dal ritorno e per noi quello che intendevo con quella frase e l'ho scritta qualche mese fa riguardo la morte del marketing diretto parlo del tipo di del direct response marketing in quello che i formatori sia in italia che dall'america che poi quelli italiani sono la copia del bario dan kennedy eccetera che arrivano dall'america le strategie che utilizzano loro che sono strategie che hanno presa molto su sulla formazione quindi nella formazione utilizzano molto ma anche andando a guardare le cose che fanno loro ormai c'è tanto marketing di brand perché se io creo contenuti non sto facendo direct marketing se io faccio le dirette tutti i giorni non sto facendo direct response marketing sto facendo marketing di brand ok in questo caso non vai a investire soldi magari in pubblicità però stai andando a investire tempo soldi di produzione di contenuti ed è un'attività di marketing di brand ok quello che ha fatto montemagno lui ha fatto marketing di brand per i primi due anni perché ha fatto video 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 sponsorizzazione di video sponsorizzazione sponsorizzazioni e poi ha fatto marketing diretto ok un'altra cosa interessante che si collega a questo è che da una parte diciamo anche chi faceva solo marketing diretto a risposta diretta si è dovuto trovare soprattutto con l'avvento dei social di instagram del personal branding a dover dedicare energie anche ad altre tipologie ma una cosa interessante è che poi il marketing diretto veramente si è si è infiltrato nella nella nelle basi di tutto il marketing basta che vedi amazon le le schede prodotto sono praticamente pagine di vendita piuttosto che ormai quando si vende un prodotto qualcosa è raro anche i siti web sono diventati quasi delle landing page con con un menu ecco quindi c'è stata proprio questa fusione ormai